Bella ragazzi, qui è Nexus e questo è un nuovo commentary su Darksider 2 Dunque, allora, eravamo lì nella mischia insieme a tutti quegli scheletri Monstri strani, comunque li ho uccisi tutti E ho attivato sto coso, praticamente mettendosi qui si tira sul ponte Tu prendi quella e la schiaffi qui e si attiva sto coso Non so cosa bisogna fare, mi sa che ho anche sbagliato Quindi vediamo subito Torniamola Vediamo Ah no, forse bisogna tirarla Ah no, ho capito Ho sbagliato io soltanto il procedimento Così bisogna fare Tanto esplode da solo Così E con questo qua immagino lo riattivi C'è un po' di gente Questo era l'ultimo se non sbaglio E infatti c'è il mostro Che ha ucciso tutto Quindi è un mio amico, basta Mmm, direi di no Allora, evitiamo già qualche amichetto Tipo questo Questi qua non me li fa ancora fare Ora No No Adesso Ho sbagliato Ho sbagliato attacco Va bene, lo stesso Questi qua volevo evoccare Ma quanta vita mi ha tolto Uh Amico Sei galmo Allora 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 Io farei inarrestabile Così che mi potenzio La foto Così tanto puoi fare Ah, è morto Questa attacca così a random Uh Ho detto basta Oh Non so, posso chissà qualcosa Un po' più forte Devo provare a trasformarmi Così prima o poi Ok Credo che lo utilizzerò Giusto contro il campione Lì Ma solo Adesso E qua come funzionerà Sta cosa Devo correre Sì Andiamo a vedere Sto campione qui Di starena Dai Caricamenti così Mi fa caricare sempre In questi modi Ma io non lo so Tanto dovrebbe Sì E qui sotto Vediamo che succede Oh merda E come Qui Dai calmo Sì ma E come Come lo tiro fuori Sto tipo Devo fargli scassare Tutte le colonne Forse Proviamo Intanto No Solo che Ma Fanno un male cane Sti tipi Oh Iiii Stai buono In segue E' uscito fuori No Io gli faccio scassare Tutte le colonne Vediamo che succede Di solito Quando lo fanno fare Perché Serve a qualcosa Ma la star Tronzo L'ho schivato Come l'ho uccidito Sto cosa Ma la distrutta Devo andare in quell'altro Capito Proviamo a cambiare arma Magari questa qua Riesco a prenderlo Quando esce fuori Donna Mia Dai che ne manca una No Minchia E prendi sta colonna Perché non gli faccio niente Ok Ora ho spaccato Tutte le colonne Ma Non serve a niente Ah Forse Perché ci aveva qualcosa di strano Quando è uscito fuori Vediamo Magari devo acchiapparlo Non posso far così Magari Viene più facile Vedi? Guarda come avevo detto io Oh merda Questa è nuova Che cacchio di cosa Cioè questo qua è il campione Più era più forte La lumaca Lì Ah vedi mi sembrava strano Troppo facile Knasher Donna mia Sei calmo Però credo che c'entri sempre con la bocca Posso ucciderlo già adesso Un po' Mi stava a dirlo Non lo fa fare Uiii Ah la funzione dell'altra Com'è che si prendeva? Questa qua Vabbè facciamo così Inarrestabile Devo prenderlo No Ah l'ho smontato Ah l'ho smontato Ah l'ho smontato Uiii Mi trasformo appena Tipo No Non adesso Eh facciamo adesso Vediamo Quanto è forte Questa forma Mi ti torna Dai Ne togli di vita Ne togli anche parecchia Devo dire Lo dura poco Eh ma perché ho raccolto Poca roba Ehm Così faccio più male Magari usiamo questa qua Che si attacchi più veloce Via 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 Ma io non capisco Ma questa forma Metitore Devo Semplicemente Che aspettare Che si ricarica Quella spirale Dai muori Su che non è che ci abbia Tutta la vita Salve te Ahia Muori Ma dai Ho raccolto Ho recuperato la tua vita Non vale Sta roba Casa mia è barata Questo amico Ah Forse perché devo Capito E finché non lo faccio Recupera Mella Cuccia Ahia Che l'ha proprio spogliato Praticamente E gli ha tagliato La testa Il premio che cercavi Nell'arena dorata Più uno strano Più uno strano Eh medici Che Che sto facendo Tutti fuori E' anche un'arma Però non riesco a prenderla Vediamo No Mi sbaglio sempre Che è la O Mi viene da fare la I Per inventario Invece O Falci brutali del fuoco Non aveva il potenziale Sinceramente Sacrifico Che sta qua Dovrei sbarazzarmi di questi Per la verità Seti di sangue Poi io butto Questo Rush B Via Via la porta Quindi penso che bisogna Ritornare indietro Giusto? Vai Corvo Ti seguo Vabbè Eh grazie Vabbò Lo scopriamo nel prossimo episodio Se questo video vi è piaciuto Mettete mi piace Iscrivetevi al mio canale Ma soprattutto Commentate